è scaricato e invita al pc forse spera per registrare così i tuoi giochi e soprattutto salvare clip quando fai uccisioni oppure quando muori vicino g forse speso invita app ti salva direttamente automaticamente la clip titan che fastidio tipo quando muore e muore oppure uccidi di salva una clip molto molto pesante fino a riempire così lo spazio sul tuo disco quindi in questo caso possiamo direttamente andare sul nostro e invidia app ed eccolo qua funzioni sovrapposizione è in vita quindi tiene attivo la sovrapposizione invidiva su impostazioni funzioni sovrapposizione invidia per aprire così la sovrapposizione fai alt più z ovviamente è invidia app dovrebbe essere la stessa cosa che con geforce experience in alto a destra c'è un video proprio al riguardo a geforce experience quindi vai direttamente su momenti salienti dovrebbe esserci anche proprio sul pannello di geforce experience qua sopra al centro momenti salienti acquisisci momenti salienti se io lo tengo attivo qui c'è quello di call of duty fortnite e poi c'è anche quello di uncharted ovviamente se ti dà fastidio quello di fortnite tipo se a uccidi qualcuno ti salva la clip perché l'hai eliminato doppia eliminazione giuca paolo eliminazione le emozioni molti vittoria quindi se ti può interessare puoi togliere così eliminazione giu questo tipo k o morte pure eliminazione ha eliminato sei restito eliminazione doppia eliminazione che vittoria puoi tenerti questo oppure pare direttamente togli tutto tipo su code fortnite come dire ci sono più probabilità di fare più kill su call of duty quindi può anche salvarti un video di un giga 2 giga quindi acquisisci momenti salienti togli un attimo qua per non salvare più le tue clip automaticamente vai su impostazioni qua cattura video ed eccole qua qui puoi regolare così la qualità del tuo formato output quindi torno un attimo indietro vado su instant replay quindi per regolare così configurare la cattura video sui momenti salienti impostazioni ed eccole qua ovviamente non me lo fa fare perché mi si è bloccata tipo una cosa sulla registrazione quindi devo riavviare il sistema perché ho anche aggiornato i driver di invidia quindi con qualità metti personalizzata metti la risoluzione a 1080 frequenza fotogrammi mettilo sui 60 e basta durata instant replay che tipo se vuoi salvare una clip salva gli ultimi 15 secondi salva gli ultimi 20 minuti e riguardo anche alle kill di salvo direttamente le kill che fa quindi per chiudere tutto qua acquisisci momenti salienti attiva la spunta e togli le spunte su call of duty fortnite e altri giochi quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial